Ciao a tutti, come conquistare un uomo velocemente? In questo video voglio spiegarti come fare per conquistare un uomo velocemente. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai partecipare ad apposite live mirate dove farmi delle domande al quale io darò delle risposte precise. Ma veniamo al tema, come conquistare un uomo velocemente? Allora, ovviamente se vuoi conquistare un uomo devi far sì che quest'uomo faccia delle cose per te poi alla fine, si coinvolga nel modo giusto. L'arte di conquistare gli uomini richiede tutta una serie di caratteristiche, ma soprattutto caratteristiche interiori che poi si riflettono sull'esterno. Quindi se non hai un mindset predisposto difficilmente riuscirai a conquistare gli uomini, perché se non pensi di poterlo fare, se non hai la giusta forza interiore, non riuscirai a conquistarlo, perlomeno non riuscirai a conquistarli per tempi lunghi. Quindi la prima cosa da fare è esercita il tuo fascino interiore. Esercitare il fascino interiore vuol dire esercitare la consapevolezza di essere una donna interessante, esercitare la consapevolezza di sedurre, di poter conquistare. Quindi nel momento in cui acquisisci questa credenza, la puoi acquisire ad esempio utilizzando il mindfulness delle meditazioni in suo respiro, mentre entri in uno stato di tranquillità, ripetiti queste frasi, io posso conquistare tutti gli uomini che voglio, io conquisto, io piaccio, io sono amata, io merito l'amore, ecco, io ho fascino, io conquisto. Ripetiti tutta una serie di frasi positive in stato di rilassamento meditativo, respirando sul... All'esterno vuol dire ad esempio quando interagisci con un uomo guardalo sempre negli occhi, sorridi guardandolo negli occhi, gestisci la prossemica, cioè la distanza. Fatti percepire come una donna femminile. Intanto esercitare il fascino vuol dire anche avere la capacità di curarsi, di essere femminile, di essere, diciamo, una donna in grado di attrarre. Insomma, per se adoro un uomo la prima cosa che devi fare è di gettare l'esca. L'esca è l'esca della femminilità, lui deve iniziare a desiderarti. Ecco, questa è la prima cosa fondamentale. Nel momento in cui lui inizia a desiderarti, l'hai agganciato fondamentalmente, a quel punto lì devi fare la seconda parte. La seconda parte è quella di produrgli delle emozioni, perché se tu non gli produci delle emozioni, difficilmente riuscirai ad ottenere dei risultati interessanti. Quindi attraverso il tuo fascino interiore che manifesti all'esterno, attraverso la tua femminilità, la tua sensualità lo attrai. E poi una volta che lo attrai devi iniziare un dialogo dove amplificargli le emozioni già presenti, per dargli un carico tensionale, per dargli un carico emotivo. Amplificare le emozioni vuol dire ad esempio dire delle frasi del tipo ma secondo me sei un uomo che ha avuto una sofferenza molto forte nella sua vita, non so se da bambino o da adulto. In questo modo è una frase molto generica, che utilizza la comunicazione del Milton Model. È una frase che deve essere generica, che però rimanda a situazioni dolorose, situazioni di sofferenza, sofferenza per amore, in modo tale che automaticamente lui farà una ricerca cosiddetta transderivazionale, cioè per interpretare le tue parole, per capirle, andrà a cercare dentro di sé quando è che ha avuto questa sofferenza, quando è che ha avuto questa situazione, e questo lo, come dire, lo coinvolgerà, lo coinvolgerà perché ti vedrà come una potenziale erogatrice di un servizio emotivo. E quindi devi rivelare poco di te e fare in modo che invece lui si apra, si apra e diciamo, e si coinvolga. Quando poi inizia a coinvolgersi, amplifichi questo allontanandoti un pochettino, ad esempio non cercarlo, quando ti chiama chiudi per prima la conversazione, e questa è un'altra cosa importante, è importante che tu possa riattaccare per prima la conversazione e chiudere, diciamo, per prima la conversazione, in modo tale da presentarti un po' come sfuggente, diciamo, un po' come... Devi spingerlo, diciamo, ad arrivare a invitarti il primo appuntamento romantico. Qua già capisci che valore ti dà. Se ti invita nella pizzeria da Peppino lo squartatore, diciamo, beh, sicuramente non è che ti dà un grande valore. Se invece ti invita, diciamo, in un bel ristorante, un ristorante di lusso, compatibilmente con tutto, ovviamente parliamo di tempi normali, beh, significa che in qualche modo, diciamo, fa un piccolo investimento su di te. È ovvio che più investe, più si coinvolge. È evidente che se tu, diciamo, ecco, in questo ristorante, in questa cena, quello che è, devi amplificare ancora di più le emozioni, perché questo lo spingerà, diciamo, genererà dentro di lui un coinvolgimento automatico. E' ovvio che se tu offri subito il dopocena fisico, beh, diciamo, esaurisci spesso la carica propulsiva, non gli dai modo di conquistarti. I maschi comunque hanno bisogno di conquistare. Quindi, da questo punto di vista, le prime uscite devono solo servire per amplificare il desiderio, non per appagare il desiderio. E ovviamente quando lo vedi andare all'appuntamento, anche quando fai un appuntamento, diciamo, quando incontri un uomo, è anche importante ammettere, avere un mindset positivo, cioè una mentalità positiva, essere fiducioso in te stessa, saper sorridere, mantenere l'icontacto, il contatto visivo. Ad esempio, come ancoraggio emozionale positivo, è ripetere spesso il nome della persona. Questo, il nome è un ancoraggio emozionale positivo. Cerca, diciamo, di stimolare, ma poi non, come dire, non appagare. Questo è fondamentale. Ed è importante che lui si dimostri, ti accorgerai che lui si dimostra realmente interessato ad avere una relazione con te quando inizierà a offrirti delle cose, a darti, a inserirti un po', a farti conoscere persone che potrebbero essere importanti nella sua vita. Questo è fondamentale. Più parla di se stesso, più si coinvolgerà. Anche questo è un punto fondamentale. È ovvio che tutto questo farà sì che molto rapidamente si coinvolgerà. è ovvio che tu più riesci a fare, diciamo, a incontrarlo, più cose dà senza ottenere, tra virgolette, nulla in cambio, più avverrà il coinvolgimento. Quindi, prima o poi, ovviamente, ci saranno anche dei contatti fisici, ma questi contatti fisici dovranno essere anche lì graduali e comunque dopo non dovrai essere tu a cercarlo. Dopo che hai avuto anche il primo rapporto, sparerai tu. In questo modo gli genererai un po' il dubbio che forse non è stato un maschio così virile e quindi lascerai che sia lui poi a cercarti e ti farà vedere un po' più fredda del solito, come se, diciamo, nella sua testa gli venga il dubbio che non è che ti è piaciuto tanto. Ecco, questo lo spingerà, diciamo, per orgoglio di maschio a volere ottenere altri risultati, a fare altre cose. Ecco, questo è un altro modo molto utile per far sì che lui investa sempre di più su di te. Bene, questo è il metodo più rapido, diciamo, per ottenere dei risultati positivi. e tieni presente sempre che la fretta è cattiva consigliera. Se tu hai fretta non otterrai nessun risultato. Serve pazienza, serve tempo e quello, diciamo, è la cosa fondamentale perché più tempo lui poi ti dedicherà, più tenderà a coinvolgersi, più tenderà ad innamorarsi. È ovvio che devi valutare bene che hai davanti perché, insomma, che sia più o meno allineato con quello che è il tuo obiettivo che devi ovviamente aver definito a priori. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo che sul canale ti puoi anche abbonare. Abbonandoti potrai farmi delle domande e alle quali risponderò in apposite live alle quali potrai partecipare come abbonato. Ciao a tutti! Ciao a tutti!